eccoci qui al palazzo di rec chiuso di nuovo ci ho provato due volte lo trovo sempre chiuso ma secondo me non apre mai secondo me lo affittano o appunto è disponibile per per film o cose particolari vabbè io provo a prendermi un caffè qui davanti e magari si aspetta vediamo un po locale disponibile ora l'affitto e poi non so se sono state fatte dentro anche se anche le stanze sono proprio quelle del palazzo non lo so però tipo so che il pianerotto dove ci sono gli zombie è quello lì manca il telo di plastica sopra se riuscisse anche entrare dentro proprio la sala chinesca con a destra le scale ecco la rampa di scale oggi c'è un po più di sole quindi dai vetri si riesce leggermente a vedere meglio anche se qui è stato tirato anche l'interno non riusciamo a entrare e nulla ora andiamo alla caserma di pompieri anche se qui è stato tirato anche l'interno non riusciamo a entrare e nulla ora andiamo alla caserma di pompieri ma niente con noi ma non c'è un taglio eccola quello si è comprato il pane per macinare ho per macinare adesso ormai ce l'ho almeno davanti non ci posso sta qui davanti vabbè se mai si attraversa e allora escono di qua con il furgone del camion e vanno nel palazzo provare a passare di nuovo alla caserma dei vicini del fuoco di rec e boh non lo so voglio provare a tornare per vedere se riesco a fare qualche inquadratura un po' migliore perché ieri fondamentalmente sono passata di sfuggita poi insomma vediamo l'edificio e questo dietro io e mezzo a motore abbiamo stato un bellissimo rapporto quando faccio video questo è l'edificio e ora provo a andare avanti c'è un pochino meno gente credo ora sta a vedere l'ultima parole famose nel prossimo episodio potrò che è un'assassima sempre girato più a macerci ho avuto più piccoli questo è da... cosa ne pensate di questo portone che non si apre? c'è chi va ehi no non si spegne no tra grazie a tutti grazie a tutti